Si parla di riattivarla da quando è stata dismessa dopo i bombardamenti della guerra. L'antica ferrovia che andava dal mare di Rimini alla cima del Monte Titano è un tema che affascina da sempre. E ora, Comune di Rimini e Repubblica di San Marino, con un botte risposta per mezzo stampa, fanno sapere di avere la stessa volontà. L'ultima corsa dei treni biancazzurri è stata effettuata nella notte tra l'11 e il 12 luglio 1944. Di quel tracciato se ne vedono ancora oggi segni negli orti delle abitazioni, sul terreno e nella palificazione. Un percorso rispolverato da un recente studio della provincia che prevede sette fermate e una lunghezza di 25 chilometri dalla stazione di Rimini ad Ogana. Del vecchio tracciato sono ancora presenti alcune stazioni convertite oggi in abitazioni. L'intervento si allaccerebbe al tracciato costiero del TRC. L'intento è quello di diminuire il traffico su strada e l'inquinamento atmosferico. Una direttrice, quella che va dal capoluogo di Riviera alla Repubblica Indipendente che nel tempo si è contraddistinta per i suoi numerosi incidenti. Il fascino e la funzionalità del trasporto su rotaia potranno forse risorgere.